Il Royal Botanical Gardens, un microcosmo da preservare. Avevo bisogno di una passeggiata naturalistica che culminasse in cascate e qualche prezioso scatto fotografico. Ovviamente condito da avventura e percorsi di silenzi lontani dalla giungla urbana. La riserva naturale UNESCO della vallata di Dallas è un lungo sistema di 40 km di percorsi, aperto a ciclisti, camminatori, anche accompagnati dagli amici a quattro zampe come i cani, che va a cavallo. La scarpata del Niagara ha una storia di 450 milioni di anni, un punto di riferimento ben presente come la sua roccia fossile di circa 750 km e varie specie tra animali e piante, tra cui le orchide selvatiche. E poi arriviamo ad Hamilton, con le sue oltre 100 cascate che sollazzano la fantasia di escursionisti e meravigliatori del mondo, scenografica vista, foreste e bellezze naturali. In lontananza siamo stati sorpresi da un campo di zucca arancioni, vista insolita per un italiano, queste gigantesche zucche che ricordano la stagione di Halloween e spuntano dalla terra ricca e scura come finestre pop-up del brosweb. La mia speranza è stata sempre quella di scorgere un raccoon tra una pannocchia e un girasone. Grazie a tutti! E questo è nuovo in nostra storia, il pumpkin with the butter, è davvero bello. Dovevamo proprio conoscere il signore delle zucca arancioni, una fattoria che poi risale al 1887, ci puoi trovare pane, cereali, verdure di ogni sorta biologici e poi marmellate fatte in casa e dolci, tantissimi dolci, come se non ci fosse un domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.